Subito e sono davvero felice di inaugurare questa serie di incontri online che va sotto il tema chiave di ibridazioni perché io sono sempre stata una fanatica delle ibridazioni. Qui con noi oggi c'è Enrico, coautore insieme a me di un libro che è basato sul concetto che niente funziona in un silos e per capire cosa fare dobbiamo allargare lo sguardo e al tempo stesso poi essere capaci naturalmente di fare bene il nostro. Quindi su questo tema delle ibridazioni e della raccogliere i più elementi possibili anche da campi apparentemente lontani per poi rielavorare e riversarli in ciò che facciamo, questo è stato sempre uno dei leitmotiv della mia vita intera, non solo quella professionale. Quindi do il benvenuto oggi tra i nostri docenti più amati e apprezzati, Maffie De Vargis, Luca Bove e Enrico Marchetto, che sono quelli che ci hanno dato lo spunto per iniziare questa serie di incontri a cui mi seguiranno altri ad andamento irregolare. Ma insomma ricominciamo dopo la full immersion nella scuola di questi mesi, riprendiamo a fare anche webinar per tutti. Gianluca ti passo la parola così vai più sul tema. Ma guarda, allora grazie della parola, io non vorrei rubare troppo spazio come dicono tutti quelli che non hanno idea di quello che stanno per dire o di quello che diranno gli ospiti. Il concetto qua di ibridazione, di convergenze è un po' sempre quello che è un po' il nostro posizionamento anche come digital update e anche come professionisti, cioè siamo mai stati degli esperti o meglio non abbiamo mai voluto diciamo qualificarci come super esperti verticali, ma come dei connettori di puntini appunto per trovare chiavi per la digital strategy che sia la migliore possibile e quindi che non sia inglobata in silos e in tante divisioni, insomma come poi spesso accade invece o in agenzia o in azienda, ma ovviamente per tante storiche ragioni, insomma. E quindi la nostra idea era appunto quella di partire dall'insight, insomma, che ci ha tirato fuori Enrico ed era quello appunto di quindi cosa può imparare, diciamo, il social advertising o comunque tutto il mondo di domanda latente, come piace dire a Marchetto Enrico, da tutto quello che le persone invece fanno in maniera consapevole, quindi per esempio le ricerche, no? che sono una fonte di dati e di insight sulle persone che è veramente a volte anche poco sfruttata anche da chi la usa professionalmente, cioè molto spesso i SEO pensano a come posizionarsi, ma molto spesso gli vengono molto meno richieste quelle competenze di insight, di ma che cosa sta succedendo nel mercato, cosa cercano le persone, che cosa, quali sono i contenuti che stanno fruendo, che stanno cercando. Enrico, ti passo la patata. Sì, dai, lancio due, al solito devo, come sempre, intanto buongiorno a tutti e a tutti, grazie, siete tantissimi e tantissimi. Sì, e proveremo ad essere all'altezza. Allora, innanzitutto, da dove nasce questa cosa? Nasce da due aneddoti e adesso vi beccate un quattro minuti di aneddoti. Allora, il primo aneddoto risale a 2020. 2020 siamo in pieno lockdown e io sto, diciamo così, trattando con un cliente piuttosto interessante e questo cliente noleggia barche. Noleggia barche, si chiama Italy Charter ed è un cliente che sta vivendo l'ascesa di una tragedia. Per il semplice fatto che è un booking di barche, 90% di clientela straniera sul Mediterraneo, siamo ad aprile e abbiamo lockdown da una parte e stranieri che ovviamente non si prenderanno mai il rischio di organizzare una vacanza in barca in Italia. Notate che appunto su 100 clienti, 90 sono stranieri, 10% sono italiani perché gli italiani non hanno un grandissimo feeling con la vacanza in barca. Molto di più gli scandinavi, molto di più gli inglesi, molto di più, per esempio, il nord della Francia. E quindi di base, però, si accorge, Italy Charter, che c'è un trend in ascesa, cioè cominciano timidamente alcuni italiani a prenotare delle barche. Prenotano delle barche, quindi faccio una riflessione con la capa di Italy Charter, che si chiama Francesca, e diciamo, ma non è che qui possiamo, come dire, testare il motivo per cui è nato Facebook, cioè lavorare sulla domanda non così consapevole, cioè lavorare su persone che non hanno mai pensato di fare una vacanza in barca, ma hanno caratteristiche tali per cui potrebbero facilmente decidere per l'estate 2020 di fare una vacanza in barca. È che di base il ragionamento, naturalmente, è mettiamo su una campagna strategica di Facebook Advertising, utilizziamo il Facebook Advertising e cominciamo a fare una campagna, ma il punto rimane, cioè che cosa comunichiamo? Cioè che cosa, su cosa vado a lavorare? Beh, devo fare una campagna di advertising piatta, sterile, assettica, dove dico, vieni a scoprire la vacanza in barca, fai che durante la primavera del 2020 comincio a lavorare, per esempio, su che cosa? Mi accorgo, facendo una semplicissima vacanza in barca e guardando, per esempio, le ricerche correlate, che ci sono una marea dato un main topic, che è vacanza in barca. Vado a esplorare tutti quelli che sono i subtopic. Cosa sono i subtopic? Tutto l'area semantica è governata da vacanza in barca, però si espande ed esplode in molti sottotopic, cioè ricerche correlate, e Google nel 2022 ti dà anche tutto quello che è il correlato al main topic, e scopri che le richieste principali sono non tanto vacanza in barca, quanto, per esempio, quanto costa fare una vacanza in barca. Oppure cosa portare in una vacanza in barca. Chi cucina in una vacanza in barca? Sono una dei grandi temi ricorrenti. Sì, ma se io vado in vacanza in barca, cioè prendo lo skipper, lo skipper cucina? Posso portare i figli? Posso portare i cani? Interessante, ho detto, cazzo. Cioè, vado a esplorare e scopro che ci sono una marea di ricerche correlate alla vacanza in barca che toccano nodi specifici. Nodi specifici a cui tradizionalmente si risponde con la SEO, con l'ottimizzazione sul motore di ricerca. Cioè, costruisco il mio sito web per rispondere alla mia domanda di mercato. E invece mi accorgo che tutti quanti questi subtopic possono tranquillamente essere utilizzati come contenuto delle nostre campagne. Ed ecco che abbiamo creato tutta una serie di mini video da mandare su Facebook, da utilizzare come canale del posizionamento Instagram, che rispondessero proprio che usassero il luogo comune sulla vacanza in barca, quanto costa una vacanza in barca, o posso portare i cani nella mia vacanza in barca, che utilizzassero l'advertising. Cioè, l'advertising diventa risposta a una domanda che queste persone non hanno ancora fatto, ma che probabilmente sarebbe la prima domanda che potrebbero fare. Mi sono perso in una consecuzione, ma è anche l'ora di pranzo. Quindi, di base, la mia idea è da lì ho cominciato a pensare all'advertising andando ad alimentare il contenuto grazie ai segnali che trovo in altri ambiti. Succede poi, poi mi chiudo, che attorno allo stesso periodo, fate conto, attorno a maggio 2020, esce questo libro meraviglioso che vi consiglio, che si intitola Design Marketing di Massimo Giacchino, e Massimo Giacchino tocca esattamente gli stessi punti. Cioè, eccolo lì, analizzare i microdati. Va a lavorare sugli stessi punti su cui avevo lavorato io. Come dire, non è che sia... È figlio di una sensibilità collettiva, è figlio di persone che probabilmente hanno rotto gli agini tra discipline differenti e vanno a cercare, come dire, spunti dalla domanda diretta, dai commenti di Google, dalle recensioni. Si lavora su, finalmente, un approccio molto, molto osmotico tra le aree del sapere del digital marketing, come dovevamo fare tipo dieci anni fa, ma che ci siamo irrigiditi probabilmente ognuno sul proprio settore. Io mi fermo qui. Il secondo aneddoto riguarda il filler labbra, ma quello, insomma, ne avevo già scritto e merita un approfondimento particolare più avanti. È che, appunto, da questo aneddoto sono nate prima la risposta di Luca e poi la risposta di Maffer. Luca mi ha detto, ma sì, noi lo facciamo da anni. Ma anch'io ti dirò, ma Marchetto! È arrivato ora. Scusate se sono rimasto nella mia caverna di Platone per tutto questo tempo. No, visto che ho fatto la battuta e non voglio che rimanga la battuta, Luca mi perdoni se ti rubo il posto. No, perché io conosco Enrico da fin troppo tempo e quindi so benissimo che anche lui tutto questo, diciamo, in come dovremmo lavorare, lo sapeva già. Il problema non è tanto saperlo, ma questo come tantissime delle cose che esploriamo anche nella scuola, esploriamo nella quotidianità, il problema poi è farlo, nel senso che spesso i clienti che sono d'accordissimo in teoria su questo approccio, quindi l'approccio di ah ma sì, c'è un unico brand, c'è un'unica strategia di comunicazione, c'è un'unica storia, quindi faccio social ads, SEO e content marketing e il sito, quando poi si trovano a doverlo mettere in pratica si dimenticano completamente questa necessità. Quindi quello che secondo me è interessante capire anche in questa chiacchierata è proprio anche dal punto di vista di come ciascuno di noi affronta i propri clienti, perché questo è un po' il dramma degli strategist, no? Uno strategist si sgola per dire guarda che questa cosa qui la devi fare in organico quando esiste, devi fare in branding ormai possiamo dire, lo devi fare in advertising se vendi, lo devi fare con la SEO, lo devi fare con il sito, lo devi fare nel negozio, lo devi fare in qualunque situazione tu ti trovi con il packaging e poi in pratica succede sempre quello che fa venire i capelli bianchi agli strategist, cioè vedi delle SERP SEO con dei testi che mai avresti pensato di far passare, ma anche in advertising, vedi magari tutto molto sexy è molto affascinante nel feed e poi sostanzialmente le parolacce nell'advertising e questo è un po' il... è come aiutare i nostri clienti a superare i silos, perché i silos in teoria lo sappiamo che non ci sono, in pratica poi siamo quasi costretti a farli e questo mi interessa molto dal punto di vista di Luca, che so che non farebbe mai passare determinate preview. No, no, a parte tutto, il, diciamo, contrariamente a quanto ha detto Gianluca all'inizio, come Digital Update, sono molto... guardano insomma tutte le cose dall'alto, io invece sono un tecnico, io vengo, sono lavorato in informatica, ho fatto... faccio SEO dal 2000 ed ero un tecnico, fino a quando non mi sono accorto nel periodo d'oro della SEO, quindi intorno al 2006, così, che c'erano delle cose che mancavano e lì ho proprio sbattuto il muso, cioè, ok, ma perché non va? E c'erano delle cose prima, cose che magari si chiamano domanda, offerte, proprio alle basi, che mancavano. E da lì io cominci piano piano a prendere atto che in effetti c'è qualcosa di più. All'epoca c'era apparentemente solo la SEO, perché insomma email marketing era spam, c'era stata la new economy che aveva distrutto le cosiddette pubblicità tabellari, quindi era il periodo ancora prima che arrivasse Google Ads, Google AdWords come si chiamava, c'era solo la SEO, facevi solo la SEO, però mancava qualcosa, e lì poi piano piano hanno cominciato ad arrivare tutti i social, Google Ads e c'è stato questo big bang del digital, cioè in questo momento ci sono centinaia, migliaia di tool diversi, di canali, molti ne arrivano, che sono in piccole dosi molto interessanti. Insomma, il capire come approcciarli e come inserirli in una strategia digitale è diventato davvero un macello, insomma, un macello perché da una parte li devi conoscere, cosa non banale, devi sapere quali sono, dove collocarli, eccetera, e alcuni dei quali sono anche complessi, insomma, anche da integrare. Insomma, io negli ultimi anni lavoro appunto nel mondo della local, quindi mi interfaccio spesso sulle cose che si dicono nel negozio fisico e quello che si dice nel digitale, che spesso sono staccate proprio, no? Fino a quando poi c'era la discussione su Facebook stamattina, non so di chi l'ha fatta partire, Decathlon chiude negli Stati Uniti. Giorgio Tava ha detto che aveva due negozi, ragazzi, di cosa parliamo? Due negozi chiude, vabbè. Cioè, dall'altra parte, indipendente da quest'autunno, che seguo interventi negli Stati Uniti dove aprono i negozi fisici per vendere più sull'online, sull'e-commerce online, no? Cioè, il ribaltamento del concetto che ancora è il mainstream qui in Italia, cioè, no? lì, siccome la pubblicità è arrivata, usano Skyrocket, cioè è arrivata alle stelle, conviene di più aprire un negozio fisico, l'altro con la crisi sono pure abbassati gli affitti dei negozi, aprono i negozi perché tanto poi vende di più l'e-commerce. Sono dinamiche che sono strane, che sono complesse, e che vanno approcciate probabilmente in un team. Cioè, poi qui, fra l'altro, ne parleremo magari anche dopo, eh? Come approcciare tutta questa complessità, cioè questa complessità, questa, diciamo, come la chiama Google? Il middle mess, il grande casino centrale, no? Come affrontarlo? È una bella domanda, è una bella domanda perché o hai un team enorme con tante competenze, con tante skill, o cominci a collaborare in maniera probabilmente anche migliore di quanto si sia fatto finora, insomma, cercando di avere dei punti in comuni, e qui magari diventa interessante anche la formazione più di base, che permetta di allargare il modello a T, come lo chiamano, i T-shaped skills, no? Quindi per avere dei punti di contatto con chi parla di Facebook, di brand, di tutte questi canali che sono tantissimi sul mondo di Gia, sono tantissimi, se li vai ad elencare non finiscono più, insomma. Questo, insomma, più o meno, ecco. Mi taccio, poi passo al secondo giro. Il decluttering, cioè, penso che comunque la moltiplicazione degli strumenti e degli ambienti si porti dietro anche una necessità che, insomma, dieci anni fa chiaramente non percepivamo così tanto, quella di fare ogni tanto un po' di decluttering, di dire, ok, sto profilo che avevo aperto e che adesso non usiamo ancora senso tenerlo, lo dobbiamo chiudere, lo dobbiamo riaggiornare, perché poi ciascuno di noi, sia individualmente come professionisti, sia come aziende, ha fatto anche giustamente tanti esperimenti di, insomma, ingresso in strumenti nuovi che arrivavano, ma poi ci servono davvero tutti. e fermo restando che sono completamente d'accordo, sposo totalmente l'idea di avere almeno qualcuno che abbia una visione abbastanza ampia da potere, insomma, mettere nel loro posto le varie caselline. È anche sempre stato l'approccio di digital update alla formazione. Sì, torno un po' anche a perché può essere successa a questo casino, come lo chiama anche Google, è molto apprezzato la revisione del funnel fatta da Google. E in parte anche perché, come un po' dico nel corso di basi della comunicazione, tutti noi che lavoriamo nel digitale siamo arrivati a fare questo lavoro anche perché eravamo un po' stufi del modo in cui la pubblicità era gestita. Quindi eravamo un po' insofferenti rispetto alla pubblicità di massa, alla pubblicità martellante. E in questo passaggio a un certo punto ci siamo persi fondamentali. Cioè continuo a trovare anche in molti ambienti digitali un po' di snubismo nei confronti del branding, della comunicazione, dell'immagine coordinata, della necessità di rispettare le linee guida, come se fossero un po' tutte delle seccature che appunto devono lasciare il passo invece alla tecnica, alla funzionalità, al dire le cose chiare, anche un po' un problema che incontro spesso, diciamo, lo scontro tra il concert pubblicitario che tipicamente è una metafora, che tipicamente è un discorso che richiede un po' di collaborazione dal partecipante all'appunto esprimere direttamente un vantaggio, un prezzo, un plus, un'offerta. E qui torno un po' a una cosa che magari poi si riallaccia anche a quello che penso ci voglia raccontare Enrico che era quello che lui diceva all'inizio che è una cosa molto difficile da capire per i miei clienti ma penso che per i clienti di tutti è proprio la fase della scoperta. Cioè la fase della scoperta è una fase in cui persone che non sanno di essere interessate a qualcosa incrociano un'offerta o una proposta che gli interessa in alcuni casi con l'equivalente dell'acquisto di impulso anche in settori e in prodotti che tipicamente non sono di impulso io l'esempio che faccio sempre da cliente da acquirente non da strategist quando ho visto queste scarpe fatte di plastica riciclata quindi delle ballerine di plastica riciclata che sembrano di cotone sembrano di grograin visto che c'è Enrico che è un cultore e in più appunta ma pianta larga ecco scarpe da 120 euro fatte da un'azienda mai sentita prima io le ho comprate nel giro di 32 secondi ma perché quello è esattamente quello che diceva Enrico io ho visto qualcosa che neanche sognavo di poter avere cioè delle scarpe sia comode sia carine sia in bei colori e anche sostenibili ma io non avrei mai cercato quelle scarpe perché davo per scontato che non esistessero ecco la frase che io probabilmente ho detto più spesso ai miei clienti è state tutti lavorando sul mid funnel e quindi vi state affannando per far venire voglia a qualcuno di comprare qualcosa che gli vendete e invece dovremmo tutti lavorare sulla parte di scoperta sulla parte di raccontare qualcosa a qualcuno che in un qualche modo dobbiamo intuire essere interessato e su come intuire chi è interessato beh c'è il motivo per cui il nostro costo orario è alto perché siamo bravi e quindi magari Enrico ci vuole raccontare adesso del filler labbra che ho visto che ha usato con grandissimo beneficio tra l'altro allora prima del filler labbra vi sottoporrei magari uno spunto di riflessione perché è una cosa a cui sto pensando parecchio perché perché lavoro ovviamente in ambito Facebook e Instagram credo che il nodo centrale dal mio punto di vista quindi dal mio giardino di Facebook e Instagram si racchiuda in una parola che penso esprima il meglio la mia considerazione la parola è immaturità io sono abbastanza convinto che l'universo meta sia un universo ancora in fase di maturazione nel senso che quindi immaturità dello strumento per certi versi nel senso che Facebook e Instagram ha scoperto adesso adesso che si autodefinisce dal 2000 dalla metà del 2020 in avanti si definisce uno strumento per fare brand building da una parte quindi attenzione dice brand building non dice brand awareness Facebook è anche egoico dice lui vuole lui è costruttore di brand ed è figo perché è costruttore di brand sia per la multinazionale che il macellaio sotto casa e quindi lui dice attenzione che ogni stories che tu fai ogni reels che tu fai è un pezzo del mattone del brand che io contribuisco a costruire e poi value generation cioè quindi generazione di valore cioè costruisco del brand per ottenere un valore questa è una concezione recente per il semplice fatto che Facebook ha passato una fase dove la centralità era l'engagement e l'altra centralità era e dopo la fase successiva è quello in cui Facebook scopre finalmente che di essere anche una potenziale marchina da performance quindi vedi Facebook in assist agli e-commerce immaturità dello strumento immaturità dell'approccio imprenditoriale allo strumento quindi utilizzo in chiave top down cioè butto su Facebook quello che mi dice la sezione commerciale o quello che mi dice la sezione la sezione marketing oppure la nuova collezione eccetera e immaturità dell'advertiser cioè l'advertiser che tendenzialmente subisce in maniera molto molto forte i desiderata di della parte della parte top down no se io lavoro in un contesto immaturo credo di dover andare ad attingere delle best practice ok da un contesto molto più maturo e penso che la SEO quindi la disciplina che lavora sul mondo Google la disciplina che lavora sul motore di ricerca sia una disciplina molto più matura della social media strategy faccio un esempio l'idea di costruire contenuto a partire dal top down cioè a partire da ciò che le persone ricercano ok è una concetto molto radicato nella disciplina SEO da almeno quanto 15 anni l'idea di andare a creare dei trigger point a partire da potenziali domande degli utenti che fanno sul mio prodotto sulla mia fascia di mercato in ambito Facebook è una concezione molto recente ed è una concezione che tra l'altro non viene quasi mai eseguita si preferisce il bello della collezione del prodotto rispetto a risolvere un problema alle persone rispetto a quel prodotto e rispetto alla loro esigenza capite cosa intendo quindi secondo me il social media advertising la social media strategy secondo me dovrebbe cominciare a montuare paradigmi metodologie e ragionamenti che sono già incastonati in discipline e in settori molto più maturi del social media marketing ok e quindi è quello che stiamo quello che io personalmente sto provando a fare nei miei ultimi il mio ultimo anno e mezzo il mio ultimo anno e mezzo professionale ecco questo era poi arriveranno i filet lab i filet lab arriveranno alla fine teniamo i filet lab come come il cliffhanger finale insomma nel senso questa specie questa categoria di persone cioè i giovani i giovani creativi i giovani i ragazzini del facebook advertising che hanno sempre snobbato come dire il mondo seo madonna che rottura di coglioni sono arrivate i convegni quando arrivano quelli della seo una rottura di coglioni madonna si va al bar si esce dalle sale probabilmente dopo il classico unvento ribellione ai vecchi maestri ribellione alle vecchie fondamenta probabilmente è il caso di andare a recuperare molta della strategia e anche molto del ragionamento per andare a fare una metodologia molto molto più seria di come dire di sollevazione di una domanda latente ma in maniera analitica in maniera empirica in maniera ragionata non lasciando alla creatività dell'ultima collezione di vestiti messa in mano al pubblico ti faccio ti voglio fare una domanda allora mi sembra di capire un po' anche dei tuoi interventi recenti che tu dici ok l'algoritmo è quello che in un certo senso decide cosa funziona meglio quindi sempre meno preoccupazione sulle minuzie e sempre più invece focus su le cose grosse creatività eccetera eccetera però adesso stiamo dicendo andiamo a vedere i dati o le domande o le ricerche correlate e queste sono un po' uguali per tutti cioè voglio dire se io sono l'azienda yacht 1 e tu sei l'azienda yacht 2 vai e se sei minimamente bravo trovi che la gente oppure la ricerca keyword è un po' uguale per tutti quindi alla fine la differenziazione che fa la buona strategia anche social è qual è cioè alla fine perché se le idee ci sono dappertutto e l'algoritmo ottimizza che ci rimane no 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 non è così assolutamente allora in un'altra diretta facevo questa metafora che è una metafora che poi una volta che mi autocompiaccio di una mia metafora la rivendo sempre secondo me l'algoritmo non è che prende cioè nel senso i fremen all'interno di Dune non è che si sono arresi all'idea che c'è il vermone e sto cazzo di vermone fa un po' quello che vuole il vermone è vero che fa quello che vuole all'interno del pianeta Arrakis però poi arriva il duca di Leto che impara a cavalcarlo cioè nel senso tu è vero che hai il vermone che ti produce la spezia che è l'algoritmo ok però se tu devi imparare a cavalcarlo quindi è vero che le keyword sono uguali per tutti ma se tu hai una buona approccio al social media marketing studi le keyword e guidi il vermone ad applicarle al meglio quindi la differenza dove la farai la differenza la farai nella fase creativa la differenza la farai nella fase del copy la differenza la farai nel placement il placement nel 2022 è essenziale esempio concerto della Dark Polo Gang al forum di Asago di supporto a Fedez la Dark Polo Gang è vestita interamente Valentino in una tutta camouflage di Valentino ok la Dark Polo Gang non compare in nessun social di Valentino non compare nel feed di Instagram non compare nel feed di Facebook non compare non compare tranne nelle stories cioè Cavalcare del vermone significa capire che il trigger point della Dark Polo Gang non funziona sul feed di Instagram non funziona sul feed di Facebook funzionerà solo sulle stories questo intendo ok quindi la Champions League la vinci nel momento in cui è vero che le keyword sono uguali per tutti ma l'interpretazione creativa per andare a sollevare una domanda latente e soprattutto la grande conoscenza della bravura nel cavalcare il vermone faranno la grande differenza questo è secondo me fondamentale super mi inserisco anch'io perché per rispondere alla domanda di Gianluca anche se questa metafora del vermone mi piace è un casino quindi la ruberò sicuramente e no alla fine Gianluca è il brand quello che fa la differenza cioè ogni brand partendo dallo stesso universo di keyword dallo stesso universo di domande latenti avrà una proposta diversa di prodotti anche una cultura diversa ed è un po' quello che dicevo nell'articolo quando è il senso di quando dico noi non dobbiamo parlare degli argomenti e toccare i topic su topic le domande latenti generiche noi dobbiamo incrociare questa parte di analisi con quello che come azienda noi sappiamo fare al meglio cioè se io sono un agriturismo in Toscana e la mia caratteristica è quello che tu arrivi lì e sei in un'oasi di pace e ti chiudi dentro una settimana me ne fregherà poco che le keyword delle persone vogliono visitare tutta la Toscana perché il mio vantaggio è che tu arrivi là e butti via la chiave del cancello ed esci però ovviamente arrivo a quella strategia sapendo quello che cercano le persone e sapendo che cosa posso offrire io e lì è proprio dove noi tutti noi professionisti possiamo fare la differenza perché questa che nascosta nella tua domanda è la tentazione di tutti i clienti ah visto che le ricerche più frequenti sono quelle su la disco bar allora metto il disco bar cazzo no è un agriturismo le persone vanno perché stanno in pace se metti il disco bar distruggi il prodotto che ovviamente è un paradosso però insomma sapete che non è anche tanto quindi il nostro lavoro è proprio quello di mediare tra i dati generici e aiutare i nostri clienti a tornare al loro modo di stare in quel mondo lì e questo è la parte qualificante proprio secondo me del nostro lavoro e aggiungo aggiungo delle cose perché quello che chiedevi Gianluca che poi è stato anche sviluppato bene da Enrico e da Maffe si parte dall'universo delle keyword che è uguale per tutti poi si vendono dei testi bruttissimi ma l'estremizzazione sono questi software già esistenti che ti scrivono anche i testi partendo dallo stesso universo di riferimento di tutti gli altri che sono le basi pubbliche esistenti su internet stesso e già cominciano a funzionare discretamente per cui se non gli metti un'anima che poi è la creatività come dice Enrico oppure anche proprio il comprendere l'essenza del brand svaniscono perché la tentazione cioè quante richieste c'è ok ma ci sono ormai i software ormai ci sono software commerciali che costano pochissimo che ti scrivono i testi anche discretamente ma senza un'anima ok e senza di quella non vai da nessuna parte senza capire anche dove devi andare che poi è il problema principale un'altra un'altra anche insomma questione che aveva fatto vedere Enrico come si possa partire insomma dalle ricerche per andare sui social Google sta facendo il contrario Google Discover che poi funziona male è la socializzazione non devi dirlo per forza perché io lo odio no perché è così nel senso che ci sono un sacco di tentative di test che stiamo facendo per capire anche come vivisezionarlo come smontarlo no e non è che funziona benissimo però è un tentativo di Google di rendersi social su Google Maps c'è il tasto esplora che è il social di Google Maps no in cui ti dice eh praticamente ti dà il feed a modi Instagram con le recensioni le foto e i post degli utenti di chi recensisce e tutto e una socializzazione dello strumento eh che praticamente appunto anche qui la convergenza ibridazioni partendo però da dall'esatto dalla visione ehm ehm opposta di eh dei social del mondo meta insomma di quello che diceva Enrico però ci stanno eh e sono anche spunti interessanti alla fine insomma alcuni sì sì Sandra io sto già pensando a come usare le le tendenze di ricerca per scrivere gli oggetti delle mail sei pronta per il post beh diciamo che il marketing editoriale clickbait queste robe le ha fatte da oh prima guardi la la tendenza vedi nuove regioni che passeranno in zona rossa ci fai il post poi lo butti su su facebook sai che alla gente interessa quello e il cerchio si chiude cioè il male è sempre di ispirazione ma questa spero di non avere mai da Luca come cliente perché penso che gli metterei le mani addosso dopo no comunque su questo ieri mi è capitato cioè eh Fantasarremo ho detto chi cos'è Fantasarremo ho cercato Fantasarremo e su google credo al secondo posto benvenuto eh benvenuto Marchetto si è vendicato per settimane che andiamo avanti questo cazzo però il discorso è che mi è uscito fuori un articolo da una non mi ricordo da quale da quale giornale anche importante che era semplicemente Fantasarremo qui metteremo i nomi dei vincitori punto era vuoto però già in anticipo avevano scritto l'articolo e non riuscite a posizionarsi io sono arrivato lì ed era vuoto quindi c'è proprio per eh il crocodile il coccodrillismo dell'internet come nuova tendenza scriviamo di SEO coccodrillismo SEO stiamo stiamo distruggendo sostanzialmente internet in questo modo quindi questo al di là della io perché non trovi più le risposte alle domande sono diventati talmente bravi a intercettare le domande che non ci preoccupiamo più di dare le risposte questo per un brand e un suicidio che sia chiaro e lo diciamo chiaro chiaro se sei una testata che vende pubblicità è una questione semplicemente di etica ma se sei un brand è un suicidio ieri ho trovato un posizionamento SEO di un non chiedetemi retroscena un posizionamento SEO di un dentifricio sulla keyword herpes labiale non so perché traffico per avere traffico credo adesso tutte le volte che guardo quel brand di dentifricio ho un po' così ho un attimo di effettivamente è difficile mettersi a cercare un dentifricio su google perché un dentifricio ha commodity forse in assoluto ma se hai l'herpes magari ti metti a cercare qualcosa che te lo può curare o far passare e se ti esce il dentifricio dici ma guarda sai che c'è piuttosto che la cremina o il cerotto che poi sta lì e fa un po' schifo e perché qualcuno usa google come social avete mai fatto delle ricerche per immagini le ricerche per immagini su google è di fatto un piccolo social è vero e lì c'è la scoperta e diciamo che è pinterest se google avesse saputo farlo diciamo così almeno io e che google fa centomila cose e quindi è nello t-shaped molto esteso quindi c'ha queste cose molto laschie buttate lì quando attaccano poi magari probabilmente il discorso guarda che in chat c'è gente veramente esperta del rapporto tra dentifricio ed herpes esatto stiamo imparando delle cose madonna vabbè io non ce l'ho il dentifricio il dentifricio no volevo fare un'altra domanda seria e mi avete distratto ah ecco il concetto delle immagini però può funzionare esattamente come quello che diceva Enrico prima su le ricerche correlate cioè se io vedo che per certi argomenti escono tante immagini e google images mi dà anche i sottotemi dell'immagine che è molto più avanzato in questo rispetto alle singole risposte testuali anche quello può servire per capire qual è il trigger ho imparato Enrico va bene sì sì assolutamente ma il discorso delle immagini vale anche come analisi qualitativa degli account dei tuoi follower sul tuo canale Instagram cioè le persone che ti seguono chi sono che immagini postano ma soprattutto all'interno del tuo prodotto per esempio Massimo Giacchino faceva l'esempio della della in un ambito che è quello della fisioterapia qual è l'immaginario utilizzato dalla fisioterapia qual è l'immaginario che funziona di più qual è il video che funziona di più cioè anche proprio un'analisi non solo delle immagini correlate ma proprio un'analisi qualitativa dell'immaginario che sta attorno a un topic l'immaginario visivo che sta attorno a un topic aggiungo una cosa che mi sta veramente a cuore perché purtroppo in Italia quando noi parliamo di brand come dire seguiamo cioè tracciamo un solco enorme tra il brand la multinazionale eccetera e la brand la brand è il macellaio sotto casa cioè quando io parlo di brand quando faccio qualsiasi tipo di mio ragionamento io faccio dei ragionamenti come mio obbligo morale ed etico faccio dei ragionamenti che possono tendenzialmente la maggior parte dei casi stare in piedi come per il grande come per il piccolo faccio un esempio l'analisi di input di informazioni che ci arrivano da ecosistemi lontani dal facebook advertising per esempio google trend facciamo un esempio molto molto pratico che consiglio anche al pubblico che ci sta sentendo di fare perché è una roba veramente illuminante se io prendo il google trend e che è una fonte distante dal facebook advertising a partire un'altra disciplina sempre se vogliamo distinguere le discipline e vado a cercare il trend della parola centri estivi negli ultimi cinque anni noi vedremo delle cose mostruose cioè noi vediamo un una cosa che accade ad agosto 2020 che è un'impennata da zero a cento della parola centro estivo quindi nel metà di luglio del 2020 i genitori avevano talmente tanto il cazzo pieno di sti bambini di sti figli che non vedevano l'ora di cercare il primo centro estivo dove parcheggiare quindi se io sono una cooperativa se io sono una associazione sportiva se io sono una squadra di pallacanestro poi parleremo anche di pallacanestro la prima cosa che faccio è immediatamente organizzo un centro estivo ok e uso facebook e instagram per raccontare quanto figo sia come cambia la tua vita classico trigger point il prima il tuo dopo grazie al centro estivo cioè quello che è il nostro ragionamento fatto per il brand vale anche per ripeto il centro l'associazione sportiva che vuole lavorare il centro estivo ok altra cosa che ho scoperto cioè una delle cose che ho scoperto è cercare su google trend la parola pallacanestro la parola pallacanestro ha avuto sempre un trend in ascesa nella frequenza di ricerca delle persone ok poi improvvisamente improvvisamente dopo lockdown la frequenza di ricerca di pallacanestro è enormemente crollata e la notizia è che non si è mai più ripresa quindi se in questo momento dovessi pensare a una strategia di comunicazione legata alla pallacanestro farei una strategia in Italia farei una strategia tutta volta a recuperare la forza del mio brand completamente come dire orientata a recuperare quel peso specifico di immaginario che ho perso prima cioè se fossi un'azienda non farei campagne di conversione ma farei campagne di brand questo è il senso cioè tutte queste spunti che noi andiamo a raccogliere questi input deve essere ben chiaro non valgono per la multinazionale o almeno non valgono solo per la multinazionale valgono per qualsiasi realtà tu stia affrontando ok questo per me è fondamentale che questo messaggio passi altrimenti siamo qui a parlare sempre degli esempi Pepsi Cola o Coca Cola ecco che è l'ultima cosa che vogliamo ecco tra l'altro questa cosa sempre pensando a digital update a noi e alla nostra community per noi è molto più frequente lavorare non dico per il macellaio ma quasi e quindi è molto difficile intervenire sulle strategie di Coca Cola per una consulente italiana qualcuno ci arriva però e quindi è anche una questione proprio di sviluppo di business cioè questa è una cosa che spesso mi viene mi viene chiesta ma queste cose che dici valgono solo se sei molto figo oppure il classico timore ma io sono B2B ecco nel B2B il lavorare intercettando le possibili possibili problemi dei clienti e lavorando su quei trigger non su semplicemente la proposta del prodotto è la strategia vincente sempre quindi questo è proprio trasversale alla grandezza trasversale al settore poi è chiaro che se hai un ottimo prodotto è più facile ma questo vale a prescindere da piccolo grande B2B o B2C è più facile perché un ottimo prodotto vuol dire un'azienda che ha già lavorato su un problema da risolvere al cliente perché un ottimo prodotto risolve un problema qualcuno se no non è ottimo per definizione anche un problema veniale perché quando si parla di problemi si tende sempre a pensare alla fame nel mondo ma anche problemi assolutamente veniali dico anche un'ultima cosa qui tengo molto visto che parliamo di ibridazioni i dati noi non li raccogliamo e non li vediamo solo online vi faccio un esempio legato al cinema visto che anche prima Enrico citava Duna negli ultimi vent'anni l'atmosfera dei film che soprattutto i ragazzi vanno a vedere si è inscurita se voi guardate ci sono anche delle bellissime paletta che fanno vedere per esempio la luminosità dell'impero colpisce ancora rispetto alla luminosità della dell'ultimo Jedi e sono molto più gloomy molto più scuri Dune non ne parliamo proprio praticamente tutti i film che i ragazzi ma non solo vanno a vedere sono sicuramente non sono sparati non sono fluo il millennial pink cioè il rosa antico che è sostanzialmente il colore che serve a vendere qualunque cosa i millennial è un'informazione che noi prima di tutto vediamo nella realtà che ci circonda ecco Maria Celeste che è della mia stessa parrocchia di amore per i colori c'è color palette su Instagram se a Sanremo Mahmood e Blanco il giorno dopo con un video messo a mezzanotte hanno un milione e mezzo di visualizzazioni e l'altro giorno erano la quinta canzone italiana cioè la quinta canzone nella chart mondiale di Spotify canzone italiana più ascoltata di tutti i tempi e hanno un video girato ad Amsterdam dove vanno in bicicletta che ve lo dico a fare se vendete viaggi ad Amsterdam o se vendete biciclette ma questo non è realtà in marketing cioè non devi fare la battutona questo è analisi dei dati ok quindi questo è un po' il senso e anche il grande divertimento del nostro lavoro che per me è quasi tutto di divertimento sì vada e colgo l'occasione proprio con questi due esempi che avete fatto dei dati perché ora ti sta parlando della SEO a servizio dei social ragiono al contrario prendiamo le immagini fate Enrico fa una campagna spettacolare su Facebook e seleziona una immagine particolarmente performante questa immagine particolarmente performante può essere usata come foto principale nella pagina del sito web perché perché se fate le ricerche da smartphone su Google vi appaiono i box con le immagini di fianco in molte ricerche e il click through rate viene in qualche modo anche definito da un'immagine particolarmente performante se abbiamo i dati di performance su campagne social usiamola anche questa per chiudere un po' il cerchio banalmente un esempio reale molto interessante certo adesso però è il momento fila le labbra Enrico ah sì è l'esperienza più incredibile che abbia mai fatto nella mia vita professionale perché ho cominciato a lavorare due anni fa con con la ASIME la società italiana di medicina estetica che mi ha commissionato delle consulenze delle formazioni insieme a questi medici estetici e chiaramente per me lì ho scoperto un mondo perché chiaramente non mi sono mai avvicinato chiaramente no non chiaramente non mi sono mai avvicinato al 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 desiderio di di una medicina estetica per la mia persona cioè sono una persona un archetipo di persona piuttosto distante a questo tipo di di universo e però e lì mi si è aperto un mondo mi si è aperto un mondo lavorando con questi medici estetici che sono come tipo le tigri della Malesia cioè gente bravissima cioè veramente tra veramente un concentrato di curve di apprendimento che mai mi era capitato in ambito marketing cioè veramente manderei a scuola a fior fior di imprenditori e di responsabili marketing da loro perché 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 da un lato hanno cioè hanno perfettamente come dire contemplato la potenza di unire domanda diretta e domanda latente se ci pensate non so penso al filler labbra noi viviamo due grandi tipologie di target persone che si avvicinano al filler labbra quindi persone che sono consapevoli di volerlo fare ma lavoriamo anche su un potenziale pubblico di persone tipo me che non hanno mai preso in considerazione a questa idea e quindi la compenetrazione tra google e facebook in questo caso nel loro caso penso all'attività di luca bove i loro google my business sono delle macchine da guerra sono bellissimi sono perfetti sono i primi google my business che ho visto carichi di contenuto ci fanno i post su google my business una cosa mai vista e quindi lì ho cominciato a capire quanto fosse potente far interagire le due cose far interagire le due cose andando a cercare mi limito a farlo utilizzare answer the public per cercare filler labbra filler labbra vi dà un ecosistema di ricerche che è impressionante da quanto dura il filler labbra come massaggiare il filler labbra quando sparisce il filler labbra una delle ricerche più pesanti in assoluto era pensate un po' a che età fare il filler labbra e quindi come dire cosa fa il medico estetico il medico estetico riceve questi input riceve questi input e comincia a creare contenuto per i loro siti web non ho visto nessun medico estetico privo di un ottimo sito web una roba impressionante quindi comincia a curare quel contenuto quindi diciamo così una sorta di approccio al content marketing basato su quelli che sono i sub topic della ricerca al che però il medico estetico cosa fa? si accorge che tutte quelle che sono keyword di ricerca sono anche dei post pesantissimi cioè un reel perché attenzione non sono mica stupidi tra tutti i placement tra tutti i posizionamenti quale posizionamento usano? la bacheca dei boomer di facebook? no useranno il feed di instagram bello lì un po' imbalsamato sul feed? no utilizzano il reel perché noi viviamo quel pregiudizio che i reel ma solo i giovani guardano i lead ma non è vero niente sono tutti i nostri pregiudizi utilizzano il reel perché? perché advertising il medico estetico nove volte su dieci non può farlo perché non è compliant con le policy di facebook allora va a innestarsi dove c'è come dire la copertura organica più alta in assoluto in questo momento storico che è nel reel e capita che medici con 2000 2500 500 follower quindi non stiamo parlando di influencer facciano dei reel da 10.000 12.000 visualizzazioni delle cose impressionanti dei reel dove spiegano a che età meglio fare un filler lab e non è un contenuto buttato lì a caso è contenuto figlio di un'analisi delle ricerche che viene fatta nel loro settore quindi questa esperienza con questo target per quello sono ibridazioni contaminazioni non solamente tra generi di disciplina ma anche tra generi di clienti provare cominciare a delle sfide lanciare il mio sogno è che quando diventerò ricco e smetterò di lavorare spero entro quattro anni l'idea è quella di cominciare a lavorare a fare dei contest a lavorare ok facciamo divento facebook advertising divento consulente sarò consulente solo per chi ha al massimo 5 euro da spendere al giorno ok proprio per mostrare che questo tipo di attività è come dire un'attività di creazione di contenuto che chiunque può fare scusate ho parlato troppo non è sempre interessante ti ho fatto venire voglia Luca di farti un filler labbra mezzo fillerino due rughette io quasi quasi sì ve lo dico se continua questo decadimento secondo me un due colpetti anche io volevo volevo uscire uscire un attimo dal filo del labbra volevo dirmi due solo un'ultima cosa come sapete faccio faccio questo corso all'università Yulm stranamente gli studenti e le studentesse diventano sempre più giovani comunque a parte quello ho capito che loro cercano su instagram io li così li ammazzerei col bastone ce li picchierei fortissimo col bastone perché cosa cerchi su instagram cerca su google e no e questi cercano su instagram e mi chiedevo effettivamente anche il contrario di quello che abbiamo detto cioè molto spesso pensiamo andare appunto a vedere cosa dice google ma su certe generazioni dovremmo anche andare a vedere cosa dice instagram e mi spiace tantissimo che almeno per quello che ne so io instagram non consenta una ricerca testuale no ma solo per solo per hashtag perché lì c'è c'è un mondo e questi come se avessero un martello e basta usano instagram come martello e qualunque cosa in chiodo insomma e stanno su instagram cercano su instagram però se lo fanno perché trovano quindi comunque dobbiamo anche sì perché sì sì no ma io poi non è che non è che dico alla fine per me l'utente ha sempre ragione quindi vuol dire che uno trova e due probabilmente siamo noi a doverci aggiornare no forse a non guardare solo anche se a volte potrebbero rispondere benissimo alle risposte degli esami ma siccome non sanno googlare i professori sono agevolati e quindi non trovano le risposte perché cercano su instagram e quindi non le trovano meglio bene bene signori siamo arrivati alla fine di questo giro di tavolo molto molto piacevole davvero quindi io ringrazio di nuovo mafe luca ed enrico e ringrazio soprattutto voi che ci avete seguiti in diretta fino a questo momento e anche chi poi si guarderà con comodo la registrazione alla prossima grazie a voi ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 grazie ciao ciao